Un omaggio a chi lavora in modo sostenibile, premiate a muccia le imprese che si sono distinte per le politiche di gestione, aziende virtuose, per consumatori responsabili. Il cash mob etico è un mercato spontaneo per premiare e far conoscere le aziende che offrono prodotti che rispettano ambiente e lavoratori. In vista di un primo omaggio nel segno della sostenibilità, andiamo ai giardini pubblici di Muccia, in provincia di Macerata, nel cratere del terremoto, a vedere un evento organizzato dalla FIM CISL e dalla NEX dedicato ai consumatori responsabili. Delegazioni di metalmeccanici sono arrivate da diverse regioni a Muccia, comune del maceratese ferito dal terremoto, per la festa del lavoro sostenibile e del consumo critico. Una festa del lavoro alternativa, prologo al primo maggio, organizzata dalla FIM CISL e da NEX, nuova economia per tutti. Come mai è stata scelta proprio Muccia? Qui nel cratere del terremoto, perché è un'area che ha pagato un carissimo tributo per questa calamità naturale. La nostra scelta è di festeggiare questo primo maggio in un modo nuovo, premiando le aziende, per cui in territori che suggerirebbero uno sconto alla legalità, alla sostenibilità ambientale, sociale, al rispetto dei diritti dei lavoratori, invece siamo riusciti a trovare anche qui aziende che non solo stanno cercando di ripartire con forza, ma vogliono essere forti di sostenibilità. Ai giardini pubblici, dieci aziende agroalimentari locali sono state oggetto di un cash mob etico. Acquistando i loro prodotti agli stand, le persone che partecipavano alla manifestazione le hanno così premiate. Un voto con il portafoglio. Se vogliamo difendere la dignità del lavoro, dobbiamo farlo, quando andiamo nei supermercati, nei negozi, premiando quelle aziende che sono all'avanguardia nella creazione di lavoro sostenibile. E questo possiamo farlo anche perché sempre più ci saranno informazioni. Già i fondi di investimento in finanza, molto più che in passato, stanno valutando anche la sostenibilità sociale e ambientale delle imprese. Questo è il mondo nuovo che avanza ed è importante che il primo maggio parli del futuro e non del passato. Sono state premiate anche tre aziende metalmeccaniche di Caldarola, Iesi e Montemaggiore sul Metauro, che applicano modelli virtuosi.